Operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Salerno nell'agronocerino sarnese. Circa 100 militari con il supporto di unità cinofile questa mattina hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 11 indagati, tutti ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti. Grazie